E' morto ieri sera l'ex presidente della provincia di Udine, Marzio Strassoldo, vinto da un male incurabile. Tre volte rettore dell'Ateneo Friulano, Strassoldo fu uno dei più impegnati difensori della lingua friulana e dell'autonomia del territorio. Il servizio di Rita Micoli. Marzio Strassoldo aveva 77 anni e è deceduto ieri nel suo castello di Strassoldo di Cervignano, dimora della nobile famiglia di cui era discendente. E' stato vinto da un male incurabile. Laureato in Economia e Commercio, aveva lavorato a Trieste, svolgendo attività di ricerca all'Istituto di Statistica dell'Università del Capoluogo Regionale. Quindi era diventato professore a Udine, nella neonata Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie. E' letto rettore, aveva poi guidato l'Ateneo Friulano per tre mandati, dal 1992 al 2001. Con lui, l'entrata in vigore dello Statuto di Autonomia dell'Università e l'ampliamento dell'offerta didattica e formativa. Nel 2001, non rieleggibile alla guida dell'Università, si pose a capo di una coalizione di centrodestra e venne eletto presidente della provincia di Udine con oltre il 57% dei voti. Riconfermato nel 2006, guidò Palazzo Belgrado fino all'anno successivo, il 2007, quando venne sfiduciato dal Consiglio per una vicenda legata ad un presunto voto di scambio in relazione proprio alla sua rielezione. Vicenda chiusa nel 2012 con la Corte d'Appello, che stabilì di non procedere. Marzio Strassoldo aveva anche guidato l'ente Friuli nel mondo. È stato da rettore e da amministratore uno dei paladini e difensori della lingua friulana e del suo uso nelle amministrazioni pubbliche. La sua ha un'idea di autonomismo che disegnava la regione divisa in Friuli e Trieste, con due province autonome sul modello di Trento e Bolzano. Fu anche il fondatore dell'Associazione Autonomista Identità e Innovazione. La presidente Deborah Serracchiani ha espresso il cordoglio della regione per la morte di Marzio Strassoldo, ricordandone le doti professionali ed umane. Il professor Strassoldo fu un autonomista convinto e anche se non ho mai condiviso la sua visione di una regione divisa in due province separate, sottolinea Serracchiani, voglio riconoscere la lunga coerenza e la tenacia con cui ha condotto la sua battaglia. Un uomo coerente che da rettore prima, presidente della provincia di Udine poi e quindi da esponente di un movimento politico, ha sempre lottato per la crescita del Friuli, per difenderlo e valorizzarlo rispetto a Trieste. Così il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, ricorda Marzio Strassoldo all'indomani della sua scomparsa.